Abbiamo la finale OB della categoria Master 17 anni più, in pista ci sono 6 rider, Marco Ferrari per il Ciclomania Racing, Caravaggio Frodo, Simone Falciullo, Giulio Frengelli per il G7 di Perugia, Francesco Derme, Panthers by Padova, Niccolò Petropoli per il TNX di Vertas e Luca Parolin per il Ciclomania Racing. Andiamo con la prima posizione, quella di Marco Ferrari per il Ciclomania Racing all'interno, abbiamo poi Simone Falciullo all'esterno, l'ultimo rettilineo con il Ciclomania Racing numero 110, Marco Ferrari a vincere la finale OB della categoria Master 17 anni più.